Mamma, ponci in campeggio al mio ragazzo? Sa c'è? Stai scherzando, no? Te ancora sei una monella e non ci mandi 18 anni ti manderò in campeggio al tuo ragazzo a dormire la tenda e ti ha i capelli e ci pensassi manca dai mamma, non fai niente dai va bene, questa volta ti mandi prova al tuo ragazzo, ti dici che è andata a monte sopra che la tua mamma non è contenta, va bene? va bene questa parte per il campeggio dopo una settimana viene a casa e fa la sua mamma allora com'è, 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 com'è mamma, com'è che è bene? dai, fai la stupida ci ha provato l'altra tenda mamma, lì c'è ancora provato ma gli ho detto, ma monta sopra che la mia mamma non è contenta e beh, con la presa lì l'ho la presa tantissimo, è messo tutto lungo e mi ha detto, monta sopra te che la mia mamma non frega in casa no 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 no